Amici Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di domenica che vedrà una perturbazione a raggiungere l'Italia, perturbazione che arriva dall'Europa nord-occidentale tra domenica e lunedì attraverserà un po' tutto il nostro paese. Controviamo la nuvolosità attesa dalle nostre parti con da prima un po' di velature che interesse hanno il centro nord, ma poi nella seconda parte del giorno arriverà la nuvolosità un pochino più estesa e compatta, interesserà il nord Italia per poi muoversi anche verso l'Italia centrale a fine giornata. E come precipitazioni dal pomeriggio torna finalmente qualche goccia di pioggia al nord, Levante Ligure, Lombardia, regioni di Nordel, se lo vedremo tra poco, e poi alla fine del giorno queste piogge rappresentate da queste macchie blu si muovono verso l'Italia centrale. Quindi in definitiva ci attendo la domenica che parte ancora con ampie zone di sereno, ma poi nel pomeriggio nubina aumenta al nord, piogge che arrivano sull'arco alpino anche con delle nevicate, su Levante Ligure, in Lombardia, verso sera anche al nord-est in Emilia Romagna e in Toscana. Nel resto Italia invece ancora a fase di attesa, temperature che rimangono miti ma è leggero calo al nord. Per tutti i tagli comunque sulle vostre località consultate l'app gratuita di Trebi Meteo.